Alla mezzanotte del 23 dicembre sono concluse le operazioni di rilevazione del censimento della popolazione delle abitazioni anno 2021. È stata un'iniziativa particolarmente complessa che ha richiesto un grosso impegno da parte dell'Istituto, una grossa collaborazione da parte dei cittadini e delle famiglie. Due milioni e mezzo di famiglie sono state coinvolte in questa iniziativa. Abbiamo svolto la rilevazione in circa 4.500 comuni, chiamando in causa 103 prefetture. I risultati sono assolutamente soddisfacenti dal punto di vista della partecipazione. Quasi tutte le famiglie contattate hanno risposto, come era successo peraltro anche in precedenza, hanno risposto all'appello di prendere parte e collaborare attivamente al censimento. Quindi ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, risultato che naturalmente rappresenta una ricchezza per il Paese, per la conoscenza di quella che è la struttura della popolazione, dell'abitazione e quindi la realtà, la fotografia del nostro Paese. Sarà compito nostro come Istituto elaborare i dati, renderli disponibili per far sì che ci sia un ritorno che aiuta a prendere le decisioni corrette, giuste, fatte sulla base di una conoscenza oggettiva e aggiornata.